Il custode di una struttura ricettiva si è trovato faccia a faccia in pieno giorno con due ladri, i quali per depistarlo gli hanno detto ingenuamente che stavano facendo solo un giro, ma in realtà avevano già accatastato un'ingente quantità di suppellettili già pronte per essere caricate su una station wagon, per essere poi portate via, ma arrivano i carabinieri e li arrestano colti in flagrante. E' quanto incredibilmente accaduto alle 11 di ieri mattina nella residenza storica Villa Palombara di Monteporzio, sede anche di un agriturismo. Il custode si è accorto di alcuni rumori provenienti dal piano terra della struttura e si è subito insospettito dato che in questo periodo la struttura è chiusa al pubblico. E' sceso e ha trovato i due uomini che gironzolavano per la struttura e che alla sua domanda su che cosa ci facessero lì spavaldamente gli hanno risposto di essere lì per fare solo un giro. Al custode però non è sfuggito da subito che lungo il corridoio che porta alle stanze vi erano sul pavimento diversi suppellettili e che altro materiale era stato posizionato proprio nei pressi dell'ingresso principale, tra cui violini, quadri, una lampada e altri oggetti antichi di valore costituenti l'arredo dello stabile, spostati dalla loro naturale posizione e pronti ad essere caricati sul mezzo parcheggiato poco lontano. A quel punto, intuite le loro intenzioni, ha subito chiamato i carabinieri della stazione di Monteporzio che sono arrivati in pochi minuti e ha ciuffato i due, un italiano e un rumeno rispettivamente di 35 e 38 anni di Senigallia, arrestandoli per furto aggravato in concorso di beni dalla residenza storica Villa Palombara. I due complici avevano già ammassato due violini, dieci quadri, cinque icone antiche in legno raffiguranti immagini sacre, cinque lampade da tavolo, un calendelabro in ottone, un arco antico in legno e altri oggetti per un valore complessivo di circa 20.000 euro, materiale pronto per essere caricato su una Kia Creed Station Wagon di colori grigio di proprietà dell'italiano rinvenuta a pochi metri dall'ingresso della struttura. Le risultanze sono state così evidenti e trasmesse alla Procura della Repubblica di Pesaro che ha chiesto la convaglia dell'arresto e il ritiro per direttissima. Stamane l'udienza, all'esito della quale l'italiano ha patteggiato la pena di otto mesi di reclusione e 250 euro di multa, mentre il rumeno ha patteggiato sei mesi di reclusione e 200 euro di multa. Ad entrambi è stata inoltre erogata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Monteporzio per tre anni.